Mentre Massimodo si avvicina a grandi passi alla panchina del Pescara, a livello societario dopo le voci dei giorni scorsi potrebbe esserci qualche novità. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, infatti il presidente Daniele Sebastiani è al lavoro per rinforzare la società e in subordine cedere la maggioranza del pacchetto azionario. E indiscrezioni delle ultime ore portano al nome di Stefano Pessina, pescarese, ingegnere e imprenditore con cittadinanza monegasca. La sua ricchezza al 2019 è stata valutata dalla rivista Forbes per oltre 12 miliardi di dollari, cosa che lo rende il terzo uomo più ricco d'Italia e il centosettesimo al mondo. Pessina, che lavora nel campo farmaceutico, vive fuori dal nostro paese da diversi anni ma ha mantenuto forti contatti con la sua città di origine, ovvero Pescara. I prossimi giorni ci diranno se questa potrà essere una strada percorribile. Intanto sullo mercato la società lavora su due fronti, svoltire da una parte l'organico e dall'altra assicurare al nuovo allenatore 5-6 giocatori di spessore. In uscita Zappa, Scogna Miglio e Drudi. Vincenzo Fiorillo è stato invece richiesto dal Verona. Il portiere del Pescara, legatissimo alla città e ai tifosi, vorrebbe restare in Abruzzo nonostante l'occasione di tornare però a giocare nel massimo campionato.